Il 13 ottobre 1943 il generale Badoglio dichiarò guerra alla Germania e al Giappone. Da quel momento i soldati italiani schierati col governo Badoglio divennero cobelligeranti. Cobelligeranti è un'espressione che significa un rapporto di fatto tra due o più stati che anche se non hanno concluso un patto di alleanza tra loro oppure addirittura restando nemici dal punto di vista formale tuttavia combattono assieme contro uno stesso avversario. Questa qualifica di cobelligeranti venne usata come preambolo al Trattato di Pace che fu firmato a Parigi nel 1947 però non valse ad attenuare in maniera significativa le pesanti condizioni imposte al nostro paese dalle potenze vincitrici. Questa qualifica giuridica insieme al contributo della resistenza partigiana evitò comunque all'Italia di essere giudicata sul piano morale colpevole senza appello. In un mese dall'8 settembre al 13 ottobre 1943 cambiò tutto. L'Italia non era più quella del fascismo ma non sapeva ancora cos'era o che cosa poteva diventare. La situazione era precipitata dopo gli sbarchi degli alleati in Sicilia avvenuti il 9 luglio del 1943 che provocarono il voto contrario a Mussolini del Gran Consiglio del Fascismo e la sua deposizione il 25 luglio appena 16 giorni doppio. Bisogna risalire a quegli sbarchi per comprendere bene che cosa accadde e soprattutto per analizzare i filmati di questa puntata. Il 9 luglio reparti americani al comando del generale Patton presero terra fra Gela e Licata superando agevolmente le difese italiane e tedesche procedendo poi verso Trapani e Palermo. Questa città verrà occupata il 22 luglio. L'ottava armata britannica di Montgomery sbarcò sul litorale tra Capopassolo e Siracusa dirigendosi verso Messina incontrando una notevole resistenza a Catania. Il primo filmato è un documentario inglese che presenta l'avanzata in Sicilia delle truppe britanniche. Al contrario dei filmati di combat film questo è frutto di un montaggio e di una regia attesa alla propaganda bellica. Gli inglesi avanzarono verso il paese di Avola prima di conquistare Catania l'8 agosto sempre mantenendosi in stretto contatto con le truppe americane. Il commento originale delle immagini di questo documentario riferisce con evidente compiacimento il successo dell'azione alleata. Le altre immagini mostrano la resa Siracusa e Messina dei soldati italiani e tedeschi ormai incapaci di frenare l'azione degli alleati. Stavano maturando in quel momento le condizioni che avrebbero portato alla scelta del re di voltare alle spalle a Mussolini e al fascismo e al passaggio quindi dell'Italia al ruolo di paese come illigerante. La 8th Armia streams inland, heading for initial objectives at Rossolini and Avola. In the allied invasion plan, americans take the left flank, canadiens the center, and british the right. The british enter Rossolini hung with flags of surrender. An italian officer gives up. Pitchers of native wine to quench the Tommi's thirst. The welcoming populace is in a holiday mood. The advance continues northward. Avola, a small coastal port, is occupied and the british flag goes up. Eighth Army soldiers share their chocolate with women and children. A rare treat for the badly fed Sicilians. American airborne troops, faces smeared black, come into Avola after tough fighting beyond the lines. Captured German food stores are handed out by the british. Here is Monte, General Sir Bernard Montgomery, the 8th Army's great commanding officer. Monte himself directs the occupation of Syracuse, the most important Sicilian city taken in the first phases of the campaign. Now, the first big batches of prisoners are rounded up. Now, the first big batches of prisoners are rounded up. This tank is a Renault, made in France. On the way to Catania, the british sweep through the streets of Franco Fonte, once again hailed by jubilant crowds. This citizen didn't wait to finish shaving. Montgomery's men drive on and on through the picturesque Sicilian countryside. Halted for a while at the Mount Etna line before Catania, where German-Italian resistance was strongest, they have now broken through. And with the Americans and Canadians are hammering at the last defenses of Messina. With lightning speed, the Allies have overrun almost all Sicily, taking 100,000 prisoners. Some of them, mostly Italian, are loaded on the barges for Africa. Arriving in England are more prisoners. Germans, many of the members of the bonded Herman-Gering division. The battle for Sicily, and after that, the battle for Europe, will go on without them. The battle for the war was still a long time. The war was still a long time, even if the war was still a long time. Ancora a half an hour, and they were sent to the request of the armistice the 8th of September. The military forces were dissolved, determining one of the most clamorous deaths of the history of all time. The entire military war was was convoluted. Subito dopo l'armistizio, i tedeschi fecero prigionieri 700.000 italiani. Molti altri soldati italiani, che a Cefalonia rifiutarono di ubbidire ai capi militari italiani, caddero vittime di una punitiva fucilazione dopo una sanguinosa battaglia. Esercito, aviazione e marina si riorganizzarono lentamente. Nel prossimo filmato vedremo navi italiani a Malta. L'arrivo a Malta, importante base britannica, era la conclusione di una breve e intensa odissea della nostra flotta. Alla vigilia dell'8 settembre, infatti, il grosso della marina era concentrato alla Spezia. Un reparto distaccato si trovava a Taranto, altre unità minori operavano fuori del Mediterraneo. Gli inglesi chiesero ai comandi italiani di far convergere i sommergibili e le navi più importanti a Malta. Ma i comandanti italiani proposero, invece, agli angolo americani di far giungere la flotta in Sardegna, dove, presumevano, si sarebbero trasferiti la famiglia reale e il governo. Se non che quando le navi dalla Spezia si stavano già dirigendo alla volta dell'arcipelago della Maddalena, ci fu un improvviso contrordine. Andare a Bona, in Algeria, perché il porto della Maddalena era stato nel frattempo occupato dai tedeschi. Sotto le bombe degli aerei tedeschi, che tra l'altro affondarono la nave ammiraglia Roma, la flotta si accingeva quindi a navigare verso l'Algeria. Giunse un altro contrordine, questa volta nuovamente dagli inglesi che indicavano Malta come meta definitiva. La mattina del giorno 11 settembre le navi italiane arrivarono nell'isola. L'Eugenio e le altre della formazione che proveniva dalla Spezia trovarono già ancorate la Duilio, la Doria, la Cadorna, la Pompeo Magno, la Darecco. Queste navi si affiancarono alle inglesi Valiant, Nelson e King George ed altri incrociatori. I capi militari, alleati e italiani si incontrarono e si accordarono. In quell'occasione agli italiani fu comunicato che non dovevano ammainare la bandiera e consegnare le loro navi. Però la nostra marina ebbe compiti ridotti. L'utilizzo immediato delle piccole unità, le masse, i dragamine, le navi ausiliarie, un impiego per missioni di scorta di torpediniere e di cacciatorpediniere e infine il mantenimento in servizio di quattro incrociatori. Invece le restanti navi da guerra e i sommergibili furono messi provvisoriamente in riserva. Per ilo dei cacciatori cattol Bros. Di l'unico colo di Europa E' la primavera del cacciatorpediniere e di su�� Imposti trovare le macon locuole Posizionato delle piccole unità Cali promocione sullene E' la presa della montagna E' la primavera dei cacciatori La maggiore dei cacciatori De l'unico colo di porto se la marina era riuscita a trasferire buona parte dei suoi mezzi a malta secondo gli accordi raggiunti con l'armistizio diversa era la situazione dell'aeronautica in profonda crisi interna nell'agosto 1943 dopo tre anni di combattimenti l'arma poteva disporre di solo 803 veivoli efficienti su 1498 registrati di questi poco più di 400 erano apparecchi da caccia e da bombardamento mentre gli altri erano da trasporto idrovolanti ausiliari per la marina oppure aerei ausiliari per l'esercito dopo l'8 settembre i tedeschi occuparono gli aeroporti e catturarono molti aerei solo 203 aerei raggiunsero gli aeroporti della sardegna o dell'italia meridionale e di questi non più di 100 risultarono efficienti non più di 160 piloti da caccia bombardieri siluranti ubbidirono ai generali del re si portarono nelle basi del sud la ricostituzione di un'aviazione efficiente procedette con molta lentezza nel gennaio del 1944 venne formato il 132esimo gruppo bombardieri e successivamente il comando italiano riuscì a ottenere dagli alleati l'accessione di velivoli air cobra spiffai e baltimore l'aeronautica di badoglio poté contare anche sul ritorno di carlo emanuele buscaglia chiamato lasso del silurismo italiano un campione nel colpire con i siluri che partivano dal proprio aereo le navi in mezzo al mare era stato prigioniero in un campo alleato buscaglia e rimettendosi in volo scoprì che gli aviatori della repubblica di salò quindi i piloti rimasti dalla parte opposta avevano dato vita ad un gruppo di aereo siluranti intitolato appunto al suo nome loro ignoravano che lui aveva scelto il re badoglio e quindi gli alleati le immagini che vediamo sono quelle dell'aeroporto di catania dove i piloti italiani incontrarono quelli americani il 16 settembre del 43 sulla facciata dell'aeroporto come riferì in un suo libro uno dei piloti giunti a catania si potevano leggere frasi di questo genere italiani i soldati americani sono venuti a liberarvi dal gioco tedesco oppure i nostri figli stanno spargendo il loro sangue per procurarvi un avvenire migliore nell'aeroporto tra i nostri piloti c'era anche il capitano giulio cesare graziani che ebbe subito posizioni importanti di comando e che cadde in combattimento sulle ali degli aerei naturalmente furono coperte le insegne del fascismo il 19 settembre il comando alleato comunicò che tutti i velivoli italiani dovevano essere consegnati agli alleati sull'aeroporto di corba in tunisia ci furono lì in loco dei controlli sui piloti e solo alla fine del mese venne dato il nuovo ordine di tornare in italia per partecipare ad azioni ma sotto la tutela degli alleati nel restante periodo della guerra morirono 29 piloti italiani in combattimento e in missioni e 78 uomini di equipaggio perirono nelle azioni di bombardamento e di trasporto di armi e munizioni per i partigiani di giugosalabie A presto. 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 A presto.